Io raga Io raga quest'anno veramente sono basito Io raga quest'anno veramente Non ho più Io quest'anno non ho parole per descrivere il calcio Mercato della Roma Non so che cazzo stia succedendo Non so quale sia la direzione da prendere Non so Quando è essere felice, quando è essere triste Quando è essere roso di culo Quando dico che mi piace una cosa Quando non mi piace Il video su Renato Sanchez l'ho già fatto Andatevelo a recuperare, ve lo lascio qui in alto nelle schede V'anticipo anche che Lo lascio qui in alto V'anticipo anche che Sono felice di Renato Sanchez, ve l'ho detto Poi andate a recuperare il video, sono molto felice Quindi non è che parlo sempre bene o parlo sempre male della Roma Se è un acquisto Non mi piace, raga non mi piace Cioè c'è poco da fare Poi starà a lui dimostrarmi Che mi sbagliavo, perché sono molto propenso Però a me pare Adesso non mi piace proprio Non mi piace proprio Non mi piace proprio Non mi piace proprio Allora, prima di iniziare Riedi a 485,270 iscritti Riedi a 486.000 iscritti E vi porto la reaction La prediction, scusatemi Dei marcatori Prima che inizia la serie A Io non volevo pare Io non volevo pare Io capisco Io capisco la situazione Io capisco tutto Io comprendo ogni cosa Però boh Cioè io capisco che tu sei In crisi Io capisco che tu devi andare a cercare un giocatore Perché Perché in questo momento Tu perdi Matic a Ferragosto E quindi devi trovare un giocatore Che possa sostituire Matic a Ferragosto Ok Però preferisco dire a Luca Che tu ti prendi 10 giorni Tanto abbiamo fatto 30 Favamo 31 Favamo 15 Favamo 30 Ti prendi 10 15 giorni Me lo chiudi sul gong Ma che me prendi un centrocampista Che sostituisca Matic Ma la mia domanda ragazzi Perché capisce di calcio Non è che io stia dicendo che capisco Ma perché Ditemi Chi capisce di calcio Ma sulla carta Matic Si sostituisce con Paredes Non sto dicendo che Paredes sia scarso Perché poi magari qualcuno Sicuramente poi overperformerà Magari Magari mi porto culo con questo video E mi diverrì da dire Ah non dicevi che Ragazzi quest'anno Matic Ha tenuto il centrocampo della Roma da solo La mia domanda è Matic Si sostituisce con Paredes Raga Matic ha delle qualità Matic ha delle qualità Che sono la forza La caparbietà Il fatto di essere molto bravo con il mancino Il fatto che è bravo nel verticalizzare Che spessissimo fa lanci lunghi Che è capace nel gioco aereo Che è bravo nei contrasti Che ha un ottimo tiro dalla distanza Che è un giocatore elegante Perché Inizio a nevo paura che fosse lento Invece lui è elegante Che è diverso Lui è elegante E quindi riesce ad ergersi Al di sopra degli avversari Paredes è abile nello stretto Cosa che Matic Non è affatto abile nello stretto Matic ha bisogno di Spazi per andare appunto A fare Delle verticalizzazioni alte È tutto destro Paredes Mentre Matic ha la brava corso sinistro Paredes è tutto destro Cormancino manco sul bus Ci sale Recupera una marea di palloni Perché fa un lavoro sporco È bravo a concludere vicino alla porta Cioè lui è bravo sotto porta Non da distante Poi magari la botta ce l'ha anche Ma è bravo sotto porta È un giocatore che cerca la profondità Matic ti cercava In profondità Paredes cerca la profondità Matic è elegante Paredes è irruento Paredes ha più cartellini gialli Che capelli ragazzi Cioè Paredes è irruento È un giocatore che è Il bianco e il nero Matic è Paredes Proprio il diavolo e l'acqua santa Sono due cose completamente diverse Sono una cosa L'opposto completo Della cosa che abbiamo appena citato Io non capisco Io non capisco Perché la Roma Si sforzi a non avere Una progettualità E vi ripeto Non mi voglio incazzare Con Tiago Pinto Ne parleremo Quando vedremo la stagione Perché poi magari Trick e Ballacca Se lamentavo è questa Non credo Non credo fortemente Credo che sarà una stagione Di blasfemie continua Però poi chiaramente Sarà il campo a parlare Ok Però la cosa che mi infastidisce È che manca la progettualità Quando vi parlo di progettualità Vi parlo di L'attacco no Roma Marcos Leonardo Primo obiettivo Se salta Dovan Zapata Che cazzo c'entra Cosa cazzo c'entra Cioè uno è un giocatore Giovane Un ragazzino Sconosciuto Che viene dal Santos Che paghi poco Cercando magari di farci Una plus valenza A 100 milioni L'altro è un giocatore Che c'ha 32 anni Che è stato rotto Tutto l'ultimo anno Che se lo prendi Per mettere un rattoppo Non c'entra niente Cioè come fai Matic ha una cosa L'unica cosa Che hanno in comune Matic e Paredes È che sulla carta Sarebbero due registi Cioè due giocatori Che giocano davanti La difesa Due mediani Che recuperano palloni Paredes in realtà È bravo anche comunque A verticalizzare È bravo nei lanci Va bene Però non ci azzeccano niente E a me dispiace Perché Chi mi segue lo sa Chi mi segue da 10 anni Lo sa Quando Paredes era la Roma Io già facevo video Regà Quando Paredes era la Roma Io già facevo video E io Io lo dissi A me non piaceva Paredes Non mi piaceva Roma Non mi è piaciuto Il Paris Saint Germain Non mi piaceva il Chievo Quando gioco al Chievo Io dicevo Vabbè torna questo Se proprio deve Però Insomma a me non fa impazzire Quando la gente diceva Oh ma che centrocampo C'abbiamo Che oltre Strotto Manderosso E N'Inguancio Abbiamo anche Paredes Io dicevo Vabbè regà Paredes è giusto Il panchinaro Può fa Roma E ha detto No è fortissimo È un mastino Diventerà fenomenale Non mi è piaciuto Il Paris Saint Germain Non mi è piaciuto Il Paredes Non mi è piaciuto Allo Zenit Dove Ho fatto meglio possibile Ma in un campionato Un po' più basso di livello Rispetto a tanti altri Non mi è piaciuto Da nessuna parte Non mi è piaciuto Quest'anno Quando l'hanno convocata I mondiali Che poi l'Argentina Ha vinto i mondiali Io ho detto Ma come cazzo Fai a convocare Paredes Cioè per farvi capire La situazione attuale Ragazzi Per farvi capire E io capisco Io ripeto Io non voglio giudicare Io Non sono né un Tutta poster Cioè non sono né uno Che dice sempre di sì E non sono nemmeno uno Che critica 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 Ok Cioè sono uno che cerca Di trovare una stabilità Perché poi quello che mi dai Io mi prendo Ma cerco di Di valutarlo Ok Io capisco Che abbia trovato difficoltà Ci sta Cioè è facile Parla su a sedia Vicino ai pannelli No Cioè è facile Uno sta qui Chiacchiera Fa due chiacchiere Con l'astuccio d'arum E va bene Quindi è più difficile Invece andare a parlare Con dei dirigenti Trovare un accordo Con dei giocatori Per Magari In 15 giorni Per un titolare Ok ci sta Però boh Hai preso due giocatori Così dal Paris Saint-Germain Perché non sapevano che farci Dovevi due buchi Dovevi tappare due buchi Uno su Wijnaldum L'altro su Matic Hai detto Vabbè Se proprio insisti Dammeli tutte e due Tutte e due le abbiamo presi Così Perché serviva Poi sia chiaro Sia chiaro Io sarò il primo A ti fare parete Paredes ha 29 anni Ha tutto il tempo Di riprendersi da Roma Però se vi devo dire la verità Boh Cioè se vi devo dire la verità Boh 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 è la parola giusta Cioè per me Paredes Ha già toccato il top Cioè se io mi immagino Paredes Paredes per me Ha già toccato il top Il suo top Lo conosciamo E quanto può servire il top Il top di Paredes Visto che per me Paredes al top Non è mai stato come Matic Lo scorso anno Poi chiaramente Qualcuno dirà Vabbè Sic Ma nemmeno da Matic Ci aspettavamo quello Che abbiamo visto Sono d'accordo Però qual è la differenza Che quel Matic L'avevamo visto Cioè quel Matic Che è stato a Roma Che abbiamo visto a Roma Lui ragazzi al Chelsea Era mostruoso La gente mi diceva Vabbè Sic L'aveste preso 6-7 anni fa Avreste fatto L'aveste preso Avreste fatto un colpaccio E lui è stato quello Che insomma Avevamo visto 6-7 anni fa Cioè un centrocampista Soltuoso Completo Totale Paredes non l'è mai stato Cioè Paredes In una tier list Da 5 gradini Per quanto mi riguarda Al top della carriera Lo metto sempre Se è una tier list Con i migliori giocatori del mondo Lo metto nella penultima Non nelle pippe In quella sopra Se è una tier list Magari di giocatori della serie A Lo metto al centro Però non è un giocatore Che può prendere il posto Di un giocatore come Paredes Come Matic Secondo me Vi posso dire una cosa Nella merda Perché tanto siamo nella merda Io avrei preferito Investire una decina di milioni Per fare scouting Non so Prendere un Un Pablo Maia 21 anni del San Paolo Dal Brasile Prendere un Eric Martel Del Colonia Che è un 2002 Prendere un Ardon Gli Asciari del Lucerna Che è un classe 2002 Anche lui Un altro 2002 E Artem Carpucas Del Locomotive Mosca Che è un altro regista Cioè tu dici No Che cazzo ci va con sta gente Ma chi è Niente Niente Però rischi di farci niente Anche con Paredes La differenza qual è Che ho giuto Van Zapata So benissimo Qual è il suo top E dove può arrivare Di Marcos Leonardo Non lo so Io so benissimo Paredes dove può arrivare A fare una stagione da 7 Cioè che magari Mi stupisce Dico bravo Paredes Stagione da 7 Dove può arrivare Pablo Maia ragazzi Dove può arrivare Artem Carpucas Dove può arrivare Ardon Gliasciari Dove può arrivare Eric Martel Dove possono arrivare Questi 4 giocatori Che vi ho citato Che arrivano da campionati Sconnessi O magari serie B Di qualche Di qualche nazione top O magari campionati Di seconda mano Ok ma dove è arrivato Kavarashkele Ma dove è arrivato Kim Ma e non è un caso Perché ce ne sono Di questi giocatori Che arrivano E poi esplodono Cioè tu sai Lui dove può arrivare Questi non lo sai E io capisco Che qualcuno mi dirà Beh Sik Però non hai certezze Con Paredes A Cellello Prendi Lo metti Di tolare Sì ma che futuro Ti può dare Paredes Non lo so Non capisco Cioè non capisco Mi sembra che La Roma stia puntando Sullo stato sicuro Ma non si sta Rinforzando Poi mi fa ridere Perché la gente Cioè beh però Sik Tu non consideri Che è campione del mondo Non me ne frega un cazzo Anche Nzonzi Con la Francia Era campione del mondo Nzonzi è stato Uno dei protagonisti Più grandi Dei miei sfoghi E non voglio Non voglio paragonarlo A Nzonzi Anche perché Non ci assecca un cazzo Cioè Nzonzi era Un Criston Arto 2 metri Lui è tipo un 80 Nzonzi era un giocatore Dove essere elegante Lui è un giocatore Invece che mena Come niente Nzonzi era un giocatore Che magari Si chiedeva A avere magari Un po' più di precisione Di fantasia Lui invece è un giocatore Che una fantasia Manco se legge fantasia O fantasia come si chiamava Se guarda il cartone animato Della Disney Ce l'ha Quindi nel senso Stiamo parlando dopo D'una cosa Completamente diversa A parte che con lui Penso che andiamo A fare le risse fuori Da Arnais Perché veramente Se no non mi capacita Roma sta a fare La banda Ve gonfiamo Praticamente Ma poi Mi fa ride Perché Allora Io su Renato Sanchez Sono contento Ma perché Renato Sanchez Vi dico la verità Avendolo visto al top Il top Renato Sanchez al top Per quello che ha dimostrato Ed è sempre stato più giovane Come ha visto Renato Sanchez L'età sopra Paredes Ecco Era qui Non dico che era qui Ma era qui Il top di Paredes Era qui Cioè Paredes al top Non ha mai raggiunto Il top di Renato Sanchez Certo Quell'Europa di Renato Sanchez E quella parentesi Al Al Che era il Benfica Se non sbaglio Dove per Renato Sanchez Era un Gesù Cioè praticamente Da solo vinciva le partite Ok Quindi Il mio augurio È che si infortuni Meno possibile Ma di Paredes Non stiamo calcolando Che pure lui è fracico Come una pera Fuori dal frigo Del 15 d'agosto Oggi Auguri tra l'altro È questo È questo Perché Paredes Non è che sia tanto più 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 Limpido Più lindo Più Più sano Cioè ragazzi L'ultimo anno Al Paris Saint Germain Perché Paredes È stato preso Impacchettato E non lo potevano più vedere Perché ha saltato 20 partite Per infortunio Ora io non so Se voi capite Che in una stazione Ci stanno 38 partite De campionato E il Paris Saint Germain Aveva fatto 50 partite Lui è mancato In 20 gare Per infortunio 20 gare L'anno prima Aveva già dato il sentore Perché 6-7 partite Le aveva saltate E spesso si era fatto male Quando c'era tipo La preparazione Eccetera Con la Juventus Allora con la Juventus Se ne ha saltato anche lì 6-7 per infortunio Quindi anche meno Però non è che ha dovuto Fa' chissà che sforzi La Juventus E gli faceva vedere il campo Manco per sbaglio Io vi voglio ricordare Che a un certo punto Allegri Gli è nato talmente sul cazzo Che ha cominciato a mettere Barrenecea Un giocatore che Sicuramente sarà un giovane Che ci farà vedere Ragazzi Barrenecea Mi dispiace dirlo Perché poi sono sempre Pro giovani Però Fagioli e Miretti Soggiatori di qualità O quantità Insomma Barrenecea Mi sembrava veramente Me dopo il sushi O Luggenit Io l'ho visto un paio di volte Tant'è che la Juventus Adesso cerca di piazzarlo In tutte le trattative Poi magari parleremo Tradizioni di Barrenecea E diremo Ma guarda sic Le stronzate che dice È diventato un fenomeno Vabbè può essere Può essere Non vi dico che non può essere Può essere Però se te preferiscono Barrenecea Regà C'è qualcosa secondo me Che non va Alla fine lo paghiamo Due spicci Due o tre milioni Cinque con i bonus Però non mi sembra Che ci azzecchi un cazzo Cioè un acquisto Tanto per È praticamente abusato O poi Me lo prendo volentieri Allora Se arriva un altro giocatore Se mi prendi un giovane Se mi prendi Come avevo detto Magari un Eric Martel Se mi prendi un Pablo Maia E mi dici Ora spendo 8-9 milioni Per Pablo Maia Che gioca Che gioca Gioca vicino magari Eventualmente a Cristante Con A Huar che gioca più avanti Con Renato Sanchez Che gioca lì E pian piano Paredes Insomma Se c'è bisogno lo mettiamo Allora è un'altra storia Però così no Però così no Io capisco È da Mourinho È da Mourinho Va bene Va bene Mourinho perfetto Per questi schemi Per questi sistemi De gioco Mourinho te gonfia Mourinho vuole i giocatori Che menano Vuole i giocatori Pisti rocciosi Ma tu prendi Renato Sanchez Che a me piace tantissimo Lo ripeto Che equivale a Vainaldum Perché per me Renato Sanchez Equivale a Vainaldum Cioè È un giocatore secondo me Molto forte Molto 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 forte Che però Vainaldum non li aveva mai avuti I problemi fisici Renato Sanchez li ha sempre avuti Però Vainaldum ha salto Tutta la stagione Quindi riprenderlo Sarebbe stato un rischio Troppo grande Perché se ti si riumpeva Un'altra volta E stavi con l'umicino Un mano E ripartivi da capo a 12 Quindi non te lo potevi permettere Non te lo potevi permettere E allora hai detto Vabbè Famo una cosa Ripartimo da qua E va bene Prendemmo un altro Però Renato Sanchez Vainaldum Per me si equivalgono Stessi rischi Stessi problemi Stesse qualità Stesse capacità Giocatori che entrambi S'inseriscono Che sono capaci Che riescono a giocare Da mediani Da mezzali Da tre quarti Va bene Paredes però ragazzi È sotto Matic Cioè il centrocampo ad oggi È Cristante Paredes Renato Sanchez E Bove Cioè questi sono i quattro nomi Della cosa che hai passato da fare Paredes Matic Sì Paredes Matic Cristante Bove Vainaldum E Camara E tu di base hai sostituito Vainaldum con Renato Sanchez Bove con Paredes E Camara Manco l'hai sostituito Ma non me ne frega in niente Perché Awar E Pellegrini Sono due trequartisti Li sta provando Sulla trequarti Mourinho Da quanto ho capito Giocheremo di base Penso io Io ipotizzo Dal mio Dal mio Umile Dal mio umile studio Io Ipotizzo Che la Roma voglia giocare Con 3-4-2-1 Con Paredes E Cristante Un Uno a fianco a Nantro Uno Cullo all'altro Corre Nato Sanchez Che è entrata a partita in corso Perché sennò Se sfragna Sulla trequarti Di Bala E Awar O Pellegrini E poi davanti Spero che arrivi in a punta Senatore Gallo Belotti Però la sensazione è veramente Quello Che sepiamo La sensazione è che sepiamo Tutto quello che passa in convento Cioè questa è la sensazione Cioè se domani abbiamo l'occasione De prendere Bonucci Per sostituire I Bagnaz Dici numericamente Non l'abbiamo sostituito Perché Abbiamo pure Bonucci noi Cioè In questo Noi stiamo a fare il mercato Nel 2018 Cioè se tu nel 2018 Mi prendevi Mi prendevi Paredes Mi prendevi Renato Sanchez Mi prendevi Awar Mi prendevi Da Duvan Zapata Si parla di Duvan Zapata Mi prendevi Muriel Mi prendevi Bonucci Ti dicevo Bacca puttana Ma si parla di Duvan e di Muriel Nel 2023 ragazzi Cioè ma di che dobbiamo parlare Ma di che dobbiamo Ma quando Ma quando Ma quando Paredes era la Roma Boh vio manco era nato Cioè faceva la terza media Cioè Doveva capire se passava all'esame Oppure no Cioè stava a fare la tesina Ma di che stiamo a parlare Ma di che stiamo parlando E poi E poi la cosa che mi spaventa È che è un altro L'ennesimo calciatore Da rilanciare Da rilanciare Perché come Awar Come Renato Sanchez Anche Paredes Tu quest'anno Devi dire Vabbè La cosa che devi dire Nella tua testa è Vabbè Au Cioè nel senso Una botta di culo Cioè potrà pure di Ne hai presi tre Fragichi Diciamo che Fragico più Fragico Più Fragico Fragico più Fragico Fa Fragico Fragico e non Fragico Fa non Fragico Magari uno non Fragico Ci esce fuori Perché dici Ok che so tre Fragichi Ma se potranno rompere Tutte e tre Però veramente Non ne hai preso uno Non ne hai preso Io Sono contento di Awar Ve l'ho detto Sono contento di Renato Sanchez Non sono contento di Paredes Ma se non ne hai preso uno Sanno Poi Può pure Può pure arriva Vainaldum sano Perché è arrivato Vainaldum sano L'anno scorso Si spacca su tutto Crociato Perché a Fena Gian Gli hanno regalato Gli hanno regalato Gli scarpini nuovi E vuole subito rompe I crociati alla gente Ok ti ho detto male Però c'è più probabilità Che uno che si spacca Sempre si spacca Cioè tu hai aggiunto Tutti i spaccati E hai preso tre giocatori Rega tutti Fragichi Cioè a me sta cosa Mi preoccupa Tu quei giocatori Tu quei soldi Che Allora tu dovevi fare dei soldi E quei soldi Le hai fatti con i giovani Ma poi hai fatto 35 milioni di Ibagnaz Io voglio sapere Dove cazzo Si è infilato Tiago Pinto I soldi di Ibagnaz In quale orifizio Tiago Pinto Hai inserito I soldi di Ibagnaz Perché altrimenti Io non mi spiego La Roma Sapete quant'è incassato 70-71 milioni di euro Da questa sessione di mercato 30 per Ibagnaz Più bonus 11 per Kluivert 7 e mezzo per Volpato 7 e mezzo per Tahirovic 5 per Carles Perez 3 e mezzo per Reynalds 2 e mezzo per Missori 2 per Matic 2 per Villar 1 per il prestito di Shomorodov 71 milioni Sapete quant'è speso? 0 per Awar 0 per Ndk 2 e mezzo per Paredes Il prestito di Renato Sanchez Llorente in prestito secco Christensen in prestito secco La Roma ha speso 2 e mezzo Cioè la Roma ha incassato 71 e ha speso 2 e mezzo Io capisco Che c'è i problemi Con il Fair Play Ma il Fair Play Ha detto che dovevi rientrare De 30 milioni Non dovevi rientrare De 80 milioni Che volevo vendere pure Pellegrini E al suo posto comprare Saponara Perché si può fare Chiami il Verona Che l'ha appena preso Ci guarda L'ha preso Svinconti Do 2 milioni Dammelo E tu Saponara Te lo prendi Perché questo è E questo è il mercato Che sta facendo in questo momento La Roma Ma Cioè E poi Llorente e Christensen Llorente Ma Mo ne parliamo No? Ma tu hai fatto Tu sei Io penso Io mi auguro Che tu sia consapevole Che hai fatto un mercato Da metà classifica Tu devi essere consapevole Di aver fatto Un mercato da metà classifica Che se poi Arrivi a metà classifica Non ti stupisci Non ti stupisci Perché quello È stato il tuo mercato Poi fai un exploit Può darsi Il Napoli lo ha fatto Ma il Napoli L'ha fatto Con i suoi calciatori Sconosciuti Giovani Tu quelli che stai prendendo Li conosci tutti quanti Cioè Se tu devi arrivare in CEP Ti fa un miracolo Ti deve capitare Che Paredes Fa la stagione migliore Della sua storia Che Nero Sanchez Torna quello Dell'europeo Del 2018 16 16 Del 2016 16 era Forse 20 Vabbè uguale Che No 16 Che Che Llorente Esplode Che Christensen Trova l'elisir Di lunga vita Devi augurarti Che Indicai Gesù Cristo Che a war Non si rompe più Perché la fata turchina Gli fa bidibim Bidibam Devi augurarti Che Smalling Regga tutta la stagione Che Di Bala Faccia 50 partite Che Belotti Torni ad essere Quello dei 30 Questo devi augurarti Perché tu Tu Napoli Cavarashkelia Non lo conoscevi Kim non lo conoscevi Lo botca Ti è esploso Va bene Ma uno Ti può esplodere Tu la squadra Che fai Che poi ti esplodono Non li conosci La Roma Li conosci La Roma Li conosci Li conosci L'anno prossimo Se ne è capa 12 Devi prendere un esterno Perché Christensen Se ne va Sia che ha fatto bene Sia che ha fatto male E' in prestito secco Quindi se ne va Poi devi ritrattare Devi prendere un difensore centrale Perché chiorente se ne va Devi riscattare tutti quanti Io non lo so Io non so a che pensare Basta Mi sono rotto il cazzo Basta Mi sono stufato Mi sono rotto il cazzo